ben ritrovati amici il gioco di oggi poteva essere tranquillamente ambientato nell'universo di asterix e obilix perché parla di una popolazione che cerca di crescere prosperare nel suo piccolo però ogni tanto anche di respingere i romani però questi sono celti non sono franchi e quindi il gioco di oggi è celte vediamo la bellissima scatola eccola qui leggiamola un po 1 4 giocatori ovviamente 2 4 giocatori 10 più l'età l'ottimismo e il profumo della vita 50 100 minuti di durata ideato da orlando sa ed edito alla pitagoras che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi seguo sempre con abbastanza curiosità tutti i giochi che questo autore fa uscire e lo chiamo sempre nelle mie recensioni orlando sa fare i giochi perché comunque le meccaniche non mancano mai anche in questo caso abbiamo un gioco che funziona come un orologio anche se onestamente è uno di quegli orologi precisissimi ma che sono un pochino difficili da capire almeno all'inizio magari invece che le lancette hanno qualcosa di diverso questo è la stessa cosa da tavolo infatti i giocatori dovranno cercare di compiere delle azioni che saranno solo 4 nell'arco della partita comunque selezionabili anche ad intervallo perché no ma che comunque nonostante siano così poche daranno veramente tanti risvolti nell'arco della partita cercando quindi di far settorializzare i giocatori su alcune cose rispetto alle altre la spiegazione quindi che partirà tra poco sarà un pochino più lunga e cavillosa di quello che comunque il peso specifico della scatola fa sembrare ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso per cui vediamo come funziona sistemiamo il tabellone al centro del tavolo accanto ad ognuno degli insediamenti dovremo piazzare casualmente una di queste piattelline quadrate dovremo poi mischiare il mazzo delle carte e poi piazzare 6 carte sul lato superiore del tabellone 6 carte lungo quello inferiore questi mazzetti di tesserine saranno separatamente i druidi e gli eserciti romani queste tesserine avranno due valori un punto e due punti dovremo creare per i druidi due pilettine e anche per i romani due pilettine mettendo sotto alcune tessere di livello 2 e sopra quelle di livello 1 andranno comunque composte due pile identiche almeno per quanto riguarda i valori delle tessere da sistemarsi scoperte in quegli spazi questi cilindri neri che nel mio gruppo chiamiamo appropriatamente liquerizie andranno piazzate due in corrispondenza dei mazzetti dei druidi due in corrispondenza dei mazzetti degli eserciti romani tutti gli altri qui in fila i gettoni dei druidi andranno piazzati qui in questi due spazi mentre al centro del tabellone ci saranno i lavoratori alcuni di questi spazi avranno preimpostato il colore del lavoratore da piazzare sullo spazio stesso tutti quelli che non hanno un'indicazione precisa andranno estratti a sorte dal sacchetto dal quale comunque pescheremo tutti i lavoratori necessari per rimpinguare gli spazi che rimarranno sguarniti nell'arco della partita sul lato destro del tabellone andranno arrangiati gli obiettivi comuni alcuni saranno da due punti altri saranno da tre punti dovremo mischiare gli appositi mazzetti e sorteggiare quelli necessari per riempire tutti questi spazi sul lato del tabellone infine il pedone dell'azione partirà esattamente da quello spazio poi ogni giocatore sceglierà un colore per ricevere una plancettina più quattro cubetti da piazzarsi qui a destra e saranno le guarnigioni uno qui sotto sullo zero della forza militare più tutti questi tondini da essere piazzati in questi incavi ognuno riceverà anche un lavoratore per tipo tranne il blu e un segnalino jolly ognuno poi riceverà una mano iniziale di cinque carte pescate dal mazzo dopodiché dovremo selezionare il nostro leader verrà scelto un primo giocatore a caso al quale andrà data quella piattellona tonda e all'ultimo nell'ordine di turno che sarà stato stabilito verranno dati tanti leader pari al numero di giocatori più uno per esempio in quattro giocatori cinque leader questo giocatore ne sceglierà uno passando gli avanzi a destra e così via fino a tornare al primo giocatore che ne riceverà due tra i quali scegliere il suo leader dopo aver scelto il leader ogni giocatore dovrà scartare due delle carte che aveva ricevuto nella mano iniziale siamo già pronti per iniziare una partita a questo gioco se articola in un numero variabile di turni e si andrà avanti a giocare fino a quando tutte le liquerizie punteggio lì in fila saranno state distribuite sugli obiettivi voglio comunque precisare prima di partire con la spiegazione che questa è l'apparecchiatura per quattro giocatori meno saremo a giocare minori saranno i componenti che piazzeremo sul tabellone c'è comunque l'indicazione di dove non piazzare i materiali a seconda del numero di partecipanti comunque arriviamo a spiegare il turno del giocatore come prima cosa questo dovrà spostare il pedone della selezione delle azioni di almeno uno spazio fino a un massimo di tre gli spazi infatti sui quali far approdare questo pedone saranno le confluenze di questa specie di fiumi che contornano quest'isola centrale che saranno quelle che determineranno l'azione sceglibile dal giocatore infatti come vedete ogni spazio sarà agganciato a due isole e le isole saranno le azioni percorribili dal giocatore potremo far compiere a questo pedone un singolo passo e aumentare di uno la nostra forza militare fargli compiere due passi e lì non succederà niente fargli compiere tre passi e dovremo calare di tre la nostra forza militare quindi per esempio con un passo solo aumenteremo di uno il nostro valore militare in questa situazione potremo scegliere se compiere un'azione di questo tipo o di questo tipo ora siccome il sistema di selezione delle azioni è sempre quello quindi sposto il pedone e a seconda di dove arrivo compio l'azione vediamo quindi le azioni percorribili in questo gioco partiamo dalle isolette che sono sul lato alto e basso di questa plancia queste ci permetteranno di scegliere l'azione di raccolta o di costruzione relative quindi ai lavoratori verdi e gialli infatti ogni lavoratore sarà specializzato in una singola azione per quanto riguarda la raccolta e la costruzione saranno rappresentate da questa e questa isola però andiamo con ordine una volta che muovo il pedone e scelgo l'isola sulla quale compiere la mia azione da quell'isola potrò prendere un lavoratore lì presente per essere scambiato con uno dei miei quindi per esempio se fossi intenzionato a compiere l'azione di raccolta che è l'azione verde potrei scambiare il lavoratore rosso che avevo con quello verde che era lì presente e ricordatevi sempre che ogni giocatore avrà sempre tre lavoratori davanti a sé prima di compiere questo scambio potremo sempre spendere una forza militare per scartare tutti i lavoratori presenti nello spazio nel quale vogliamo compiere l'azione metterci al loro posto quelli presenti sul mozzo di questa ruota centrale e poi ripescare dal sacchetto tre lavoratori da piazzare al centro solo dopo quest'operazione rimetteremo nel sacchetto i tre lavoratori scartati detto tra noi questa opzione l'avrò utilizzata se non una o due volte in tutte le partite che ho fatto tra tutti i giocatori che hanno partecipato in ogni caso sostituire il lavoratore non è un'azione obbligatoria potremo anche stare con quelli che abbiamo arriviamo quindi a compiere l'azione vera e propria e quindi vediamole tutte in fila partendo da quella verde che è la raccolta in questo gioco si raccolgono le carte se staremo svolgendo la raccolta nell'isola inferiore dovremo raccogliere per forza dal bordo inferiore del tabellone l'isola superiore ci permetterà di ricevere le carte della metà superiore del tabellone con la raccolta prenderemo sempre la carta nello spazio gratuito che è quello più a sinistra guardando il tabellone con questa prospettiva e poi in base a quanti lavoratori verdi avremo potremo utilizzare questi lavoratori per prendere altre carte come requisito ovvero prendere per esempio questa carta ci impone di avere un lavoratore verde prendere questa ci impone di avere due lavoratori verdi quindi potremo prendere sicuramente questa e poi scegliere magari di prendere altre due carte dal costo di un lavoratore o una singola carta dal costo di due lavoratori i lavoratori non saranno spesi saranno solo impiegati però ogni lavoratore ci potrà far prendere una sola carta è un po' come se fosse una moneta da non spendere quindi per esempio potremo prendere la carta gratuita e due dal costo di un lavoratore verde ciascuna e poi faremo slittare tutti gli avanzi a sinistra e ripescheremo per rimpinguare le mancanze vediamo adesso l'azione gialla che è quella di costruzione costruire significa prendere uno dei nostri tondini per diventare un edificio di una delle cittadine sul tabellone di nuovo se l'azione la staremo facendo nell'isola inferiore potremo costruire nelle città in basso sul tabellone isola superiore le città in alto per costruire un nostro avamposto dovremo scartare dalla mano tante carte quante richieste dall'icona sotto al tondino che stiamo rimuovendo dovremo andare da sinistra a destra del colore della città nel quale andremo a piazzare il nostro tondino esempio pratico il primo tondino avrà un costo di tre carte se lo piazziamo nella città rosa dovremo scartare tre carte rosa dalla mano ogni lavoratore giallo il nostro possesso ci sconterà questa costruzione di una carta quindi in questo caso spenderemo solo due carte rosa anche se avessimo sufficienti lavoratori per scontare fino a zero il costo di costruzione comunque una carta la dovremo scartare per decretare il colore della città nella quale costruire non appena avremo costruito il nostro tondino nella città riceveremo immediatamente il bonus istantaneo associato alla città che potrebbe essere l'aggiungere del valore militare il poter reclutare un nostro lavoratore dopo ci arriviamo pescare delle carte tra quelle esposte eccetera eccetera sarà comunque possibile costruire anche più tondini del nostro colore all'interno della stessa città per ogni città avrà un limite massimo di tondini che potremo costruire al suo interno andiamo adesso all'azione del militare associata ai lavoratori rossi e a quell'isola in questo caso se staremo utilizzando quest'isola dallo spazio superiore dovremo affrontare l'esercito romano della pila superiore se saremo nella metà inferiore dell'isola affronteremo l'esercito in cima alla pila di sotto per affrontare gli eserciti sarà necessario scartare delle carte dalla mano e avere ovviamente i lavoratori dello stesso colore dell'azione in questo caso i rossi sulla tesserina dei romani che staremo affrontando troveremo il valore militare che dovremo almeno eguagliare tra le nostre carte e eventualmente anche di valore militare da poter spendere in questo caso per effettuare questa azione per l'azione militare non sarà importante il colore della carta ma l'icona che troviamo invece in basso dovremo scartare carte che abbiano la stessa icona in basso a sinistra ognuna di queste carte varrà punti militari pari al numero di lavoratori rossi che avremo in nostro possesso in questo momento quindi ognuna di queste carte varrà uno di militare per questa azione avendo invece due lavoratori rossi ognuna di queste carte varrà due di valore militare e così via fino a un massimo di quattro di valore militare per ogni carta quindi un massimo di quattro lavoratori rossi in questo caso quindi pareggiamo superiamo il valore della tessera dei romani e quindi li sconfiggiamo dopo aver quindi scartato le carte utilizzate per questo scontro metteremo la tessera capovolta davanti a noi in questo gioco i sigilli verdi sono i punti e quindi avremo di fatto un punto in saccoccia per il fine partita dopo la battaglia potremo anche costruire una nostra guarnigione ovvero un cubetto potremo scartare un'altra carta dalla mano piazzando il cubetto rimasto più in alto nello spazio guarnigione dello stesso simbolo che sarà riportato in basso a sinistra sulla carta e quindi prenderemo il cubetto più in alto e lo piazzeremo nella guarnigione con lo stesso simbolo della carta scartata quella carta dovrà essere in più rispetto a quelle già scartate per sconfiggere i romani veniamo alla quarta e ultima azione quella del reclutamento che troviamo su quest'isola sulla sinistra associata al colore blu reclutare significa prendere un nostro lavoratore per renderlo sempre disponibile davanti a noi per esempio potremo prendere uno dei nostri rossi per essere piazzato in uno degli incavi sopra la nostra plancettina con un'azione di reclutamento faremo sempre esattamente un reclutamento più un reclutamento aggiuntivo per ogni lavoratore blu che avevamo davanti a noi ovviamente potremo reclutare un massimo di tre volte nello stesso turno perché più di tre lavoratori non li avremo una volta reclutato dovremo ripescare lavoratori fino ad arrivare al nostro limite di tre dal centro in questo caso comunque ogni qual volta pescheremo un nuovo lavoratore prima di scegliere eventualmente il successivo si rimpinguerà pescando dal sacchetto così da avere sempre sul mozzo centrale tre lavoratori tra i quali scegliere dopo l'azione di reclutamento potremo cercare di prendere un druido che saranno i lavoratori grigi per prendere un druido dovremo scartare nel sacchetto tanti lavoratori del colore appropriato presi però tra quelli già reclutati se staremo affrontando l'isola del reclutamento dal basso potremo andare comunque a risolvere la tesserina druido nella parte inferiore del tabellone se saremo nello spazio superiore la tesserina superiore questa per esempio ci impone di scartare tra i lavoratori già reclutati un verde un giallo e un rosso mettiamo caso di averli avuti prenderemo la tesserina davanti a noi girandola sull'altro lato in questo caso avremo messo in saccoccia punto e prenderemo anche un druido per essere piazzato come lavoratore reclutato i druidi saranno dei lavoratori jolly che conteranno come un giallo un verde o un rosso basta ricordarsi che si pescano dall'azione blu e il blu non lo potranno utilizzare ogni druido che comunque formiamo avrà anche un costo in carte che dovremo scartare dalla mano una carta per il primo druido che prenderemo due carte per il secondo druido che prenderemo e così via indipendentemente dal colore o dal simbolo che ci sarà sulla carta stessa i lavoratori che avremo reclutato diventeranno dei lavoratori sempre disponibili per noi di fatto aumentando la loro quantità in nostro possesso per fare delle azioni sempre più performanti va detto però che potremo sostituire una volta spostato il pedone solo uno dei tre che saranno liberi dalla nostra plancettina quelli reclutati non le potremo più toccare a meno che non andiamo a creare nuovi druidi scartandoli quello è l'unico modo che abbiamo per fare un po di ripulisti sulla plancettina potremo anche comunque avere più lavoratori reclutati del massimo consentito della plancettina e solo in quel caso potremo fare un po di economia scartando quelli che non ci interessano più detto tra noi non è mai successo in tutte le partite che ho fatto quindi riepiloghiamo le quattro azioni percorribili nel gioco la verde la raccolta ci permette di prendere nuove carte da aggiungere alla mano potremo sempre prendere la prima carta gratuita sulla sinistra più in base a quanti lavoratori verdi avremo tra quelli disponibili sbloccati e quelli bloccati con il reclutamento potremo andare a prendere nuove carte sommando insieme i loro costi l'azione gialla invece quella della costruzione ci permetterà di costruire nuovi tondini dentro alle cittadine i lavoratori gialli ci permetteranno di avere lo sconto di una carta da scartare rispetto al valore del tondino che stiamo andando piazzando il valore di piazzamento sarà sempre crescente giusto per la cronaca tre carte il primo nove carte l'ultimo però avrete capito che potremo avere in qualsiasi momento soprattutto nella seconda metà della partita dei lavoratori gialli anche incastrati qui sopra la plancettina o anche i grigi che fungeranno da jolly e quindi sarà facile avere forti sconti per i piazzamenti però almeno una carta la dovremo sempre scartare per far vedere il colore della cittadina nella quale piazzeremo il nostro gettone l'azione rossa e la battaglia ci permette di affrontare gli eserciti dei romani scartando il nostro valore militare quindi facendo retrocedere il nostro cubetto oppure carte dalla mano tutte dello stesso simbolo comunque in basso a sinistra e ognuna di queste carte avrà un valore pari al numero di lavoratori rossi che avremo davanti a noi fino a un massimo di 4 di valore per ogni carta scartata dopo aver battagliato potremo anche scartare un'ulteriore carta per costruire una guarnigione infine l'azione di reclusamento la blu ci permette di incastrare nuovi lavoratori sopra la nostra plancettina per aumentare le nostre performance per le azioni successive e anche di creare dei druidi scartando dei lavoratori dalla parte alta della nostra plancia per convertirli appunto in druidi la spiegazione del turno e delle quattro azioni è praticamente finita vediamo adesso un concetto particolare di questo gioco ovvero la saturazione di un'azione vi dico già che delle quattro azioni che vi ho spiegato solo tre quindi tutte tranne la verde e la raccolta avranno questa particolarità partiamo quindi dalla saturazione della costruzione l'azione gialla quando avremo costruito l'ultimo tondino all'interno di una cittadina il giocatore che costruisce quel tondino prenderà comunque il bonus della tesserina dopodiché solo il giocatore che ha costruito l'ultimo tondino prenderà possesso della tesserina stessa per metterla davanti a sé e mettere in saccoccia un altro punto e solo le cittadine che saranno completamente riempite di tondini concorreranno a fine partita per il punteggio infatti ogni tondino dentro una cittadina completamente riempita varrà un punto al proprietario del tondino in questo esempio quindi il bianco sta facendo due punti il verde un punto per quanto riguarda invece l'azione militare rossa e l'azione di reclutamento blu il concetto è identico vi ricordo che le pilettine di tessere che siano i romani da affrontare o i druidi da creare saranno comunque livellate con quelle più facili in cima e quelle più difficili sotto mettiamo caso che riusciamo a prendere l'ultima tesserina druido da quello spazio comunque soddisfiamo i requisiti mettiamo la tessera da parte in questo caso siccome più difficile ci darà comunque due punti invece che uno solo e prenderemo anche l'ultimo druido lì presente a questo punto il giocatore è solo quel giocatore che svuota una pilettina di tesserine prenderà la liquirizia di punteggio associata a quella pila che ha appena svuotato e la piazzerà su un obiettivo a sua scelta purché quell'obiettivo abbia ancora uno spazio su cui piazzare quella liquirizia per esempio potremo piazzarla su quella carta infatti gli obiettivi comuni di questo gioco non saranno obiettivi che si conseguiranno e daranno dei punti precisi sempre in tutte le partite ma saranno i giocatori a decretare quanti punti varrà ognuno di questi obiettivi fino a un massimo di due per i primi fino a un massimo di tre per quelli in basso infatti ogni obiettivo darà tanti punti quanto la somma di tutte le liquirizie piazzate lì sopra paradossalmente se su una carta non saranno stati piazzati questi indicatori a fine partita varrà zero ci manca da vedere solo la progressione naturale del gioco ogni qualvolta il dell'azione farà un giro e passerà il fiume che c'è sulla destra del tabellone prima di far compiere l'azione al giocatore che ha spostato il pedone il giocatore proprietario della piattella del primo giocatore dovrà prendere la liquirizia più in alto e piazzarla su un obiettivo a sua scelta dopo questa operazione il gettone tondo passerà al giocatore a sinistra cosicché nell'arco della partita intera tutti i giocatori piazzino un ugual numero di liquirizie sugli obiettivi comuni saranno solo le pilettine che si finiscono sul tabellone a decretare qualche giocatore che piazzerà punti in più rispetto agli altri mancano da vedere solo le ultime due cose la prima è questo gettone i giocatori potranno prendere di questi gettoni soprattutto attraverso alcuni bonus che troveranno strada facendo in qualsiasi momento potranno comunque scartare i gettoni in loro possesso per farli contare come un lavoratore aggiuntivo di un colore a scelta oppure per compiere un'azione diversa da quelle accanto alle quali si sarà fermato il pedone ci manca da vedere solo il leader il leader non sarà altro che un obiettivo del giocatore di fine partita che darà di base un punto avendo conseguito questo requisito quando arriveremo a lasciare solo tre liquirizie lì lungo la plancia allora solo in quel momento i giocatori potranno scegliere se girare sull'altro lato il leader e farlo valere tre punti ma con lo stesso requisito maggiorato o lasciarlo sul lato base che darà solo un punto solo in quel momento i giocatori dovranno compiere la loro scelta badate bene che se un giocatore gira il leader dovrà comunque cercare di conseguire questo obiettivo quello da un punto sarà perso andremo quindi avanti a giocare fino a quando tutte le liquirizie sulla parte destra del tabellone andranno a finire sulle carte obiettivo dopo il piazzamento dell'ultima che sarà comunque operato dal giocatore che sedeva alla destra di chi aveva la piattella tonda all'inizio della partita questa tornerà al primo giocatore originale finiremo quindi il giro azioni in modo che il giocatore che sede alla destra di chi avrà la piattella in quel momento compia il suo turno dopodiché ci sarà un ultimo turno nel quale ogni giocatore compirà due turni insieme quindi sposto il pedone compio l'azione sposto il pedone compio una seconda azione alla fine anche di questo turno doppio andremo al conteggio dei punti per prima cosa verificheremo le cittadine completamente riempite di tondini ogni tondino varrà un punto per il giocatore proprietario se una cittadina non avesse sufficienti tondini per riempirla varrà zero per tutti i giocatori lì presenti ogni giocatore poi riceverà un punto per ogni sigillo che avrà davanti a sé per le tessere prese che siano esse quelle piccoline per il riempimento delle città o quelle grandi di valore 1 2 dei druidi e degli eserciti verificheremo poi le due linee di guarnigioni dei giocatori ovvero dei cubetti piazzati lì dopo il completamento delle tessere romani il o i giocatori a pari merito con più tondini su ognuna delle due linee di guarnigioni riceveranno un punto per ogni cubetto lì presente del loro colore andremo poi a valutare la plancia del giocatore come vedete alcuni spazi hanno il contornamento con i sigilli laddove i giocatori avessero riempito o svuotato quegli spazi riceveranno quei punti ogni giocatore poi sommerà insieme il valore militare che aveva a fine partita più il numero di carte avanzate a fine partita in mano e riceverà da questo totale un punto ogni 5 andremo poi sugli obiettivi comuni che daranno un punteggio pari al numero di liquirizie che saranno piazzate lì sopra gli obiettivi da due punti di valore massimo saranno obiettivi a maggioranza gli obiettivi da tre punti massimo che sono questi che escono dall'inquadratura andranno invece al requisito in caso di pari merito per quelli a maggioranza tutti i pareggianti al primo posto prenderanno i punti pieni infine ogni giocatore riceverà uno o tre punti dal suo leader se avrà raggiunto quella condizione di punteggio fatta quindi la somma dei punti delle città completamente riempite dei sigilli che avremo davanti a noi delle guarnigioni se avremo la maggioranza di cubetti in quella linea dei punti derivanti dal completamento della nostra plancia dagli avanzi di valore militare più carte in mano diviso 5 dagli obiettivi comuni che avremo comunque soddisfatto come maggioranza o requisito e del nostro leader il giocatore col totale più alto sarà il vincitore in caso di pari merito sul regolamento sono presenti due o tre criteri di spareggio il primo dei quali premierà il giocatore col totale più alto di tondini costruiti dentro le cittadine più lavoratori reclutati ed eccoci qua di ritorno partiamo dai materiali onestamente si ha una copertina del gioco estremamente faiga che però non ha risposta sul tavolo sui componenti anche se comunque questi sono fatti veramente veramente bene perché comunque abbiamo tutte le plance sia dei giocatori che anche quella centrale con un'iconografia perfetta che aiuta a ricordarsi quello che possiamo fare cosa dobbiamo pagare per fare che cosa dove fare i punti abbiamo poi tutte le tesserine in un buon cartone spesso tutto illustrato veramente bene abbiamo anche i token dei lavoratori che sono belli massicci e anche serigrafati fronte retro quindi comunque sul tavolo se uno non guarda la scatola il gioco di per sé è sicuramente bellissimo da vedere se uno guarda la scatola e guarda quello che c'è sul tavolo pensa che magari hanno messo una scatola sbagliata sul tavolo sbagliato per quanto riguarda le meccaniche avete visto che poi a fondo a fondo sono semplici sposto il pedone di uno due o tre passi e faccio una delle due azioni che quel pedone sta guardando potrò raccogliere pescare carte utilizzando lavoratori verdi oppure costruire piazzare un mio gettone in una città e avere uno sconto in carte da spendere in base ai lavoratori gialli che avrò potrò attaccare e quindi scartare carte dalla mano facendole valere di più in base a quanti lavoratori rossi avrò potrò reclutare in base a quanti lavoratori blu avrò e poi potrò fare anche i druidi nello stesso momento che saranno dei lavoratori giolli se andrà avanti così pian piano cercando di far accrescere il punteggio degli obiettivi comuni si va ai punti chi ne fa di più vince allora la prima partita questo gioco è una sberla tra capo e collo ma non tanto perché è complesso perché alla fin fine le regole una volta spiegate vanno giù dritte il dramma non voglio dire problema il dramma è che comunque bisogna cercare di capire cosa vogliamo fare nell'arco della partita intera e per almeno il primo terzo la prima metà della prima volta che lo giochiamo andremo un po alla cieca per poi capire che comunque è un gioco estremamente lineare e soddisfacente che comunque impone ai giocatori di settorializzarsi su qualcosa i criteri che daranno punti saranno veramente tanti però al tempo stesso arrivare a farli tutti bene sarà impossibile e siccome i punteggi in questo gioco sono esponenziali almeno all'interno dello stesso ambito dovremo cercare di stare su quello e cercare di fare sempre quello e specializzarci in quello e quindi lì ci verrà in aiuto magari anche il leader che sceglieremo o comunque che ci verrà dato all'inizio della partita perché di fatto sarà ne più nemmeno un obiettivo di fine partita che a differenza di quelli di tutti gli altri giocatori ci darà punti solo per noi e quelli potranno essere uno o tre punti che saranno importanti perché avrete visto come i punti sul gioco scarseggiano molto e intorno ai 30 punti si ha già quasi la vittoria in tasca e quindi già quei tre presi bene sicuramente andiamo un passo avanti verso la vittoria vittoria che comunque sarà sudata soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi comuni in quel sistema mi è piaciuto un casino perché saranno i giocatori a cercare di dare connotate la partita in corso con le liquirizie come le chiamo io per aumentare il numero di punti che arriveranno a seconda di quale beneficio e quindi potremo andare su quelli o a maggioranza che daranno punti solo a un giocatore quindi magari se io sono avanti su quel criterio foraggio quello perché tanto sono punti solo per me e non per gli altri oppure su quelli a requisito per andare dietro agli altri e devo dire che comunque è un gioco che magari dalla copertina io torno sempre lì magari perché c'è veramente grossa disparità tra quello che può sembrare e quello che effettivamente è un bellissimo gioco però chi si aspetta in questo gioco sui celti che combattono i romani cercando di accrescere la loro colonia la loro città la loro nazione un gioco dove i celti vanno avanti con la loro storia e sgonfiggono i romani non ce lo trova e quindi chi comunque cerca un'ambientazione stia lontano chi invece comunque si sofferma sulle meccaniche potrà trovare in questo chiamiamolo astratto più perché comunque lì siamo un ottimo prodotto con delle meccaniche alle quali non si può dire niente della durata giusta e che comunque permette di sedersi di fare anche della strategia a lungo termine perché bisognerà settorializzarsi su qualcosa e avere veramente tanta soddisfazione nel vedere come tutti gli ingranaggi di questo mega orologio andranno a posto comunque sia avremo anche da fare i conti con le meccaniche particolari che sono quelle di saturazione delle azioni che comunque anche lì mi sono piaciute perché delle volte sarà importante non andare a fare l'azione che mi interessa ma quella che appunto porta a compimento una cittadina termina magari la pila dei romani o dei druidi e quindi andare lì e fare quel punto in più che mi permette anche di prendere la liquirizia e metterla a fare punti da qualche altra parte però in quel modo agevolando magari gli altri perché o la città fa dare più punti agli altri giocatori o comunque magari faccio qualcosa che dà dei benefici anche agli altri quindi se ha questo meccanismo dove comunque da un lato c'è il beneficio e dall'altro anche il beneficio agli altri che dovremo bilanciare bene quindi in conclusione è un gioco che mi sento di consigliare sicuramente a tutto il popolo germano soprattutto dei giocatori di media alta esperienza proprio perché è un gioco che si impara da subito però da lì a giocarlo bene con criterio ci vorranno veramente diverse partite giocatori occasionali state fermi nonostante ci sia scritto 10 più sulla scatola giocatori di media esperienza potrebbe essere un buon trappolino di lancio giocatori che cercate giochi molto ambientati soprattutto in periodi storici molto caratteristici come questo state ancora più lontane perché se no gli date fuoco per quanto riguarda però il suo prezzo c'è il tevene nuovo intorno ai 40 euro è un prezzo perfetto per questa produzione anche al di sotto di quello che ci si potrebbe aspettare usato intorno ai 25 euro ci sta che si possa trovare anche se comunque non è uscito da tanto però non è così diffuso come potrebbe sembrare quindi se avete le caratteristiche che ho detto prima non fatevelo scappare e siamo arrivati alla fine anche di questo video lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate in descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi il link al sito della pitagoras che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video i siti di wilde soul con le sue magliette ecologiche e ls giochi con i suoi giochi e i miei codici sconto il canale gioconauta per recuperare tutte le mie live il sito di wiga dove proveremo a far partire un ga per il gioco di oggi appena uscirà questo video qui intorno ai facciani vi lascio tutti i link al video che reputo importanti per essere rivisti vi anticipo il prossimo lo girò su medieval e hanshiska e se non siete iscritti cliccate qui sul pop up e attivate la campanella noi ci vediamo al prossimo video ciao